San Barnaba, originariamente chiamato Giuseppe, è una figura di grande rilievo nella Chiesa Primitiva e viene considerato uno degli apostoli anche se non faceva parte dei dodici originali. La sua vita e il suo ministero hanno avuto un impatto significativo sulla diffusione del cristianesimo nel primo secolo. San Barnaba nacque a Cipro, in una data non specificata, ma vissuto durante il primo secolo. Nome originale Giuseppe, successivamente chiamato Barnaba, che significa figlio della consolazione o figlio dell'esortazione, era di origine levitica e possedeva una terra, che vendette per sostenere la comunità cristiana. Probabilmente convertito al cristianesimo poco dopo la Pentecoste, fu tra i primi a vendere i propri beni per sostenere i poveri della comunità cristiana di Gerusalemme, Inviati dallo Spirito Santo, Barnaba e Paolo partirono per la loro prima missione missionaria. Viaggiarono per diverse città dell'Asia minore, predicando il Vangelo e fondando comunità cristiane. Dopo la separazione da Paolo, le notizie su Barnaba diventano più scarse. Continuò probabilmente la sua opera missionaria a Cipro e in altre regioni. Secondo la tradizione, Barnaba morì come martire a Salamina, Cipro, intorno all'anno 61. Barnaba è venerato come il santo patrono di Cipro e delle comunità cristiane missionarie. San Barnaba è ricordato per il suo spirito di consolazione e incoraggiamento, il suo sostegno fondamentale al ministero di Paolo e la sua dedizione nel diffondere il messaggio di Cristo in tutto il mondo antico.